Eccomi ritornato, sono AndreaPro69 E in questa mappa proverò a fare una carica nucleare Sto usando l'M4 silenziato con sciacallo, sangue freddo e... Cosa? Vediamo? Sciacallo, sangue freddo e ninja E ha una secondaria PP2000 mirino laser perché non ho sbloccato il silenziatore Ora visto che hanno conquistato A, proverò ad andare a vedere se c'è qualche culattone Adesso entro sparando Vaffanculo me l'hanno fottuto Vediamo, qua non ce n'è nessuno, no Vediamo adesso se ne vedo un paio girando in questo lato Si ce n'è uno ma non muore, porca troia non l'hanno visto sto mongolo E dopo mezz'ora lo vedo Mamma mia ce n'erano su due, uno col cecchino e uno che spara la rapica con l'OMP Mamma mia Scarso Non riesco a capire da dove mi sta sparando perché ho la griglietta davanti Due di fila Minchia Si sono sforzati Tre di fila Stranamente anche su sta mappa usano lanciagranate ma per loro fortuna non mi hanno beccato Perché a me, tipo, oggi mi è capitato che ero a 5 se non mi sbaglio Faccio la sesta, uno con martirio ma ammazza Dopo il secondo tentativo Faccio sempre la sesta Arriva uno lì mi tira la lancia granate in bocca Ma porto, oddio Comunque vi volevo dare un consiglio che se volete fare una carica nucleare su sta mappa Secondo me il posto migliore è questo Vedi tutti Vedi C Se guardi giù vedi B E se guardi a destra vedi A Più di così Ora visto che me ne dovrebbe mancare una l'aria sto camperando un attimino E mi sembra di aver capito anche che questi sono su A Mi levo perché non ci sa mai Occhio che questa qui era la mia Claymore No, no, il Predator ti prego Non mi ha preso a me, meno male Ho un presentimento che da qua viene un nemico Ora me ne vado a nascondere Ne deve fare ancora due E poi c'ho il supporto aereo Vediamo se me lo fa Comunque avete visto che il posto migliore su sta mappa è quello là in cima sulla casetta Lascio andare qui Cazzo mi butti giù le cose fino a occhio di merda Non muore Ora proverò ad andare a vedere su sto palazzetto se ne vedo uno E infatti è così Ora gli dico a un mio compagno se può buttare giù il Come si chiama l'elicottero perché io c'ho il supporto Oh fine Eh ho il supporto aereo Butta giù l'elicottero nemico Grazie Ok Vediamo se capisce di buttarmelo giù Vabbè comunque ora sto camperando un attimo perché Sono a rischio qua Ci sono tutti i nemici E' un po' difficile a non farti prendere eh perché Dai supportino Olè supporto Ne devo fare non so quante Forse 12 Sì ma farne 12 su sta mappa è il miracolo eh Non è una mappa da supporto aereo questa eh Almeno che non ti nasca Non che ti va di culo che ti nascano tutti fuori Gli sto prendendo tutti con sangue e freddo Vabbè che Se ne nasce uno lì E' logico che lì ci sono anche gli altri Ok Boh non so quanto sono So solo che le devo fare Perché sono dei nabili di merda che buttano su i miei supporti aerei Vediamo se qualcuno c'è il coraggio di salire Per ora sembra di no Ora c'ho una fighissima Claymore Stranamente il Predator mi fotte le uccisioni Bastava un colpo Lo ammazzavo Non lo prendo Qua mi è sembrato di vederne uno Ma avrò sbagliato Ora vediamo se c'è qualcuno su Alpha Bello Andiamo Non c'è nessuno Andiamo a vedere se qua c'è qualcuno Ma ha schivato la Claymore quindi è qua Bello Ora lo ripiazzo Non riesco a prenderli Me ne mancheranno 4 circa 3 Ora vado di nuovo su Una Nucleare Vabbè se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al mio canale Ditevi se mi piace che almeno capisco di continuare a fare le cariche o no E boom Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti E alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti